Oggi siamo qui a Treviso, fuori dall'università, per dire il nostro no a questa riforma. Cosa dite anche voi qua studenti di Treviso? Allora, ciao, io sono uno studente di mediazione linguistica e culturale. Se la legge oggi passa, la nostra facoltà al prossimo anno verrà chiusa, in quanto siamo una facoltà a numero ridotto, e come il decreto dice, le facoltà a numero ridotto verranno soppresse perché è un costo. Se non verrà soppressa per questi motivi, comunque come studenti ci verrà dato un costo standard e perciò la nostra retta verrà alzata, in quanto non è possibile solo con 35 persone iscritte al corso pagare quei 7-8 professori che abbiamo. In più, non mi sembra sia giusto che i ricercatori vengano, gli venga dato un contratto, ha fatto un contratto a tempo determinato, in quanto viene così sfavorita la ricerca e l'innovazione, che non è giusto ed è una cosa che tantissimi anni che in Italia viene stoppata. Quindi mi sembra sia giusto che tutti quanti restino qui fuori a protestare contro questa riforma, come stanno facendo in tutta Italia e che in particolare ci colpisce a noi come Treviso che verremo soppressi e cancellati come un semplice costo.